Il campo di alta pressione che da alcuni giorni ha interessato la nostra penisola sta per subire un netto ridimensionamento a causa della spinta verso Levante del flusso perturbato dell'Atlantico. Infatti una vasta area depressionaria riconducibile al ciclone di Slanda nei prossimi giorni spingerà con decisione verso sud-est dirottando verso la nostra penisola una serie di fronti perturbati che scorreranno in un letto di correnti mediamente occidentali. Dunque a livello termico avremo una condizione poco consona al periodo in corso con temperature che faranno registrare valori al di sopra della media del periodo. Il grande freddo rimarrà parcheggiato sul comparto russo-scandinavo bloccato dall'irruenza delle correnti occidentali e a giudicare dalle ultime elaborazioni numeriche non dovrebbe interessarci almeno fino a Capodanno. Dunque tutti gli annunci rivolti al gelo e alla neve per le festività natalizie pubblicati negli ultimi giorni su varie testate giornalistiche da chi sfrutta la meteorologia esclusivamente per scopi di lucro sono caduti nel vuoto. Comportamenti questi che oltre a creare panico infangano la meteorologia banalizzando il lavoro del vero professionista del settore. Le previsioni meteorologiche vanno comunicate dall'esperto in carne ed ossa o al limite dal giornalista di turno il quale ha il dovere di riportare integralmente i bollettini redatti dal meteorologo professionista senza togliere o aggiungere nulla. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani sabato 25 dicembre cielo irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sul settore settentrionale della regione dove non si escludono isolati piovaschi. Maggiori schiarite invece sul Cilento dove non sono previste precipitazioni. Dalla serata rapido aumento della nuvolosità ad iniziare dal napoletano e casertano con precipitazioni che nel corso della notte si estenderanno a tutto il territorio regionale. Temperature in aumento soprattutto nei valori minimi. Venti meridionali da deboli a moderati e mare mosso. Domenica 26 condizioni di cielo molto nuvoloso ovunque con frequenti precipitazioni a carattere sparso specie sul settore occidentale della regione. Dalla serata sensibile peggioramento con piogge che potrebbero assumere carattere di forte intensità nel corso della notte successiva. Temperature stazionarie. Venti moderati da sud ovest e mare molto mosso localmente agitato. Nei primi giorni della prossima settimana insisteranno condizioni di instabilità a causa della formazione di un minimo depressionario sul Tirreno. Depressione che causerà nuove abbondanti precipitazioni segnatamente tra la serata di lunedì 27 e la prima parte di martedì 28. Le temperature non subiranno variazioni significative con valori che si manterranno sempre lievemente al di sopra della media stagionale. Per un miglioramento bisognerà attendere giovedì 30 dicembre quando dall'entroterra africano si espanderà un promontorio anticiclonico che con tutta probabilità ci interesserà nella giornata di Capodanno garantendo condizioni di tempo stabile anche se nottetempo e al primo mattino avremo la formazione di dense foschie e banchi di nebbia nelle aree pianeggianti dell'entroterra. Al momento l'evoluzione appena descritta per Capodanno è solo un'indicazione di massima. Pertanto invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui augurando a tutti i telespettatori di Cilento Channel un sereno e felice Natale. A presto da Giuseppe Stabile.